Un programma ideato e condotto dall'Avvocato Emanuela Fancelli. Grazie, buonasera senatore, grazie di essere con noi questa sera. Un piacere, grazie a voi, buonasera a tutti i vostri, a tutti gli intervenuti. Grazie. Mi sembra un bel parterre e soprattutto gli argomenti sono estremamente interessanti, sviluppati con competenza. La ringrazio ed io approfitto della sua presenza perché in effetti parliamo di imprese e il suo partito più volte ha sostenuto la necessità di interventi in favore delle imprese che più che altro si traducevano in un'esigenza di liquidità perché le imprese in questo momento si trovano ad affrontare non soltanto la perdita di fatturato ma anche i cosiddetti costi fissi anche in tempo di Covid e a serrande chiuse se così si può dire. Però le chiedo, senatore, non è un po' una contraddizione il fatto che si parli di ristori da un lato e poi dall'altro abbiamo avuto il 16 marzo, come il cosiddetto Tax Day, nel quale sono scaduti oltre 80 tempimenti fiscali. La Lega più volte aveva in effetti proposto la sospensione delle imposte, almeno per un ulteriore periodo se non proprio la cancellazione. Si sarebbe avuto un'iniezione di liquidità senza attendere i ristori? Sì, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto anche perché effettivamente è uno degli argomenti con cui noi abbiamo cercato nel periodo del Conte 2 di far capire che la vera necessità era la messa in sicurezza della situazione economica delle imprese perché era di tutta evidenza che a fronte di una chiusura, a fronte del lockdown, a fronte di tutto quello che la pandemia ci ha purtroppo, dico, abituato a vedere in questo ormai anno drammatico, doveva essere affrontato in questi termini. Bisognava mettere nelle condizioni coloro che stavano in quel momento soffrendo il dramma che si stava vivendo attraverso appunto questo tipo di atteggiamento. Io penso che nel decreto sostegni che dovrebbe vedere la luce domani. Non vorrei anticipare cose che poi magari vengono smentito. Notte tempo, cambia qualcosa. Non rischiamo, le manine sono sempre lì dietro l'angolo in qualche modo, però ad esempio questa sorta di cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro, vediamo se sarà 5, sarà 10.000 euro, dovrebbero dare una boccata d'ossigeno a coloro che nel periodo del lockdown non sono riusciti a far fronte agli impegni che avevano. Io sulla parte imprese, sulla parte sviluppo economico, l'opinione che mi sembra sia stata anche già ripetuta durante il corso della serata, evidentemente parte attraverso quello che è il più grosso degli ostacoli per chiunque voglia fare impresa, che è la burocrazia. Io credo che ogni volta che ci sono dei tavoli di confronto di qualunque genere, ma anche all'interno del mondo sindacale, è evidente che la burocrazia è un grosso problema. Vedete, io vengo da una provincia che è quella di Savona, che è stata diciamo giudicata area di crisi complessa, area di crisi complessa nel 2016. Nel 2021 a oggi siamo ad erogare i primi contributi per le aziende che ne hanno avuto diritto. Allora, se il tempo di reazione che la politica, i soggetti attuatori, le stesse imprese a volte che magari i tempi con cui rispondono alle solicitazioni sono anche un pochino più lenti, sono questi, però con ogni probabilità abbiamo un problema di competitività. Io leggevo l'altro giorno un bel trattato da parte dell'Ordine Nazionale dei Consiglienti del Lavoro. Si parlava prima di formazione, si parlava prima di capire, ecco, oggi noi non formiamo i nostri studenti, per esempio, a quello che sono le esigenze e le necessità del mercato. perché se, e lo leggo perché non vorrei di dimenticarmi nessuna delle competenze, i profili più introvabili continuano a spiccare i tecnici in campo ingegneristico, i tecnici informatici e telematici, gli specialisti in scienze informatiche, chimiche e matematiche, i tecnici dei processi produttivi, ma noi non li formiamo, ma se il mercato ti chiede quello, probabilmente c'è un cortocircuito. Qualcosa che non va. In quello che serve al paese e quello che il paese invece offre. Tornando anche a quella meravigliosa partita che il decreto di dignità, concordo, seppur ha mitigato, non ha risolto, legato alla delocalizzazione, io voglio portare un esempio, diciamo, positivo. Se c'è un'azienda importante del territorio nazionale che è insita nella provincia di Savone, è la Noberasco. Noberasco ha spostato il proprio stabilimento da Albenga, che è una bellissima cittadina sul mare, in provincia di Savona, l'ha portato in una valle che si chiama Valle Bormida, a 60 chilometri, sempre in provincia di Savona, facendo un investimento di oltre 60 milioni di euro, ovviamente usufruendo, diciamo, delle opportunità che la legge consentiva nel riguardo ai finanziamenti e quant'altro, ma non ha delocalizzato. Però non abbiamo, allo stesso tempo, premiato o non premiamo sempre questo tipo di aziende che fanno questo tipo di ragionamento. Aziende familiari, che portano ancora il nome della famiglia che li gestisce, e che allo stesso tempo, e vi inviterei a visitare lo stabilimento, è un stabilimento che è a misura d'uomo, che forma le persone, che le mette nelle condizioni di avere, per esempio, non una mensa, ma un cuoco che cucina per i dipendenti. Probabilmente il loro smart working, lo smart working organizzato, come quello di cui faceva riferimento il professor Carlo Magno prima. Cioè, ecco, però credo che sia la buona volontà di quell'imprenditore che si è caricato sulle spalle l'onere di formarsi, se tutto quello che poteva, le piattaforme, diciamo, le giudizievo consentire, ecco. Invece questo dovrebbe essere l'obiettivo della politica, no? Quello di indirizzare quello che è importante per il Paese in quel momento e quindi creare le condizioni perché questo accada. Io non so, anzi ne sono certo, il decreto sostegno non soddisferà, non soddisferà le esigenze di coloro che in questo momento hanno un'esigenza. Sarà necessario sicuramente un altro scostamento di bilancio, però voglio anche far presente che noi abbiamo fatto scostamenti di bilancio per 180 miliardi, diciamo 150 adesso, e probabilmente altri 20, tra un po' quasi, 180 miliardi. Io non so se questi 180 miliardi realmente il Paese ne abbia beneficiato dal punto di vista, diciamo, della ripartenza. Draghi dice debito buono, debito cattivo. Non so se è arrivato un po' troppo tardi rispetto a quando dovrebbe dovuto arrivare, però è evidente che c'è un problema sostanziale. Intanto c'è un problema vaccinale, perché se siamo allo stesso punto di prima, dopo un anno di Covid, c'è qualcosa che non va. quando altri Paesi probabilmente stanno immaginando la fuoriuscita dalla crisi già a giugno. Noi oggi stiamo immaginando di aver vaccinato molte persone a settembre, la maggioranza delle persone a settembre. È un Paese complicato questo, è il più bel Paese del mondo, è un Paese complicato. Senatore, la interrompo su questo. Io sono una di quelle persone che va a vedere sul sito quante persone vengono vaccinate al giorno, perché non vedo l'ora di fare il vaccino. Vabbè, diciamo che siamo passati da 80.000 al giorno a 240.000 al giorno, poi c'è stato questo imbarazzo di AstraZeneca, che non voglio neanche commentare, perché probabilmente rischerei la querela di qualunque, su questo argomento. Lo chiediamo poi magari all'onorevole Baldini se fa un commento sulla AstraZeneca da medico. Però mi sembra di tutta evidenza che c'è davvero, ci sono spesso dei corti circuiti. È evidente che protezione civile e esercito sono molto più efficaci di qualunque altro tipo di struttura, perché sono presenti sul territorio, perché sono ramificati sul territorio, perché sono abituati a vivere sulle emergenze. La scelta di Draghi in questo senso mi sembra assolutamente coerente. Per quanto riguarda lo smart market, mi permetto e poi mi taccio e vi lascio la parola. Ovviamente il mercato del lavoro già prevedeva la possibilità di essere, diciamo, snelli nell'utilizzo di questo tipo di opportunità. Il Covid ci ha obbligato, però io vedo tutta una serie di situazioni. Parlavo oggi con il direttore delle Unioni Industriali della mia provincia, che mi ha fatto un quadro dello smart working che credo sia coerente. Ora, molto bene, perché le aziende ne hanno usufruito in modo coerente e corretto. Cioè hanno ottimizzato le risorse approfittando dello smart working senza perdere la competitività. Qualche dubbio ce l'ho sulla pubblica amministrazione perché viaggia sul cartaceo e quindi la difficoltà anche solo di andare in un comune per farsi fare un certificato diventa un problema. Perché di fatto ancora è così. Cioè al di là di adesso, con il Covid siamo stati costretti a questo ammodernamento. Esatto, il rallentamento di tutta una macchina produttiva, per esempio quella dell'edilizia, che è figlia, si basa sulle autorizzazioni che non possono essere rilasciate perché non c'è l'uomo che fisicamente mette un timbero, ti rilascia un documento, perché la nostra digitalizzazione è all'età della pietra. I Flintstone probabilmente sono messi meglio e quindi questo è un problema. Mi pongo anche un problema di desertificazione diciamo di quei quartieri, evidente non delle piccole cittadine, ma delle grandi città. Immagino Milano, dove un palazzo pieno di uffici ha il 70% o il 60% di smart working, vuol dire che ci sia il 60% di persone in meno che usufruiscono di un bar, di un ristorante, di un... Ecco, questo è l'equilibrio famoso che si deve sempre trovare come tra salute ed economia, ambiente e sviluppo. Cioè, ci sono sempre delle... Diciamo, degli estremi che devono trovare una sintesi. Ecco, lo smart working, bene. Se diventa una regola, mi pongo un problema di... Non lo so. È evidente che, e l'abbiamo visto nella DAD, perdonatevi, ho due figli, li ho messi in condizioni per fortuna perché vivo in una realtà che me lo consente attraverso il wifi, attraverso alcune spese, ovviamente, che sono state fatte aggiuntive, di essere in condizione di lavorare entrambi, ma io mi immagino situazioni dove non c'è la connessione, dove non c'è nel paesino piccolo. Noi siamo ancora un po' all'età della pietra. Quindi, anche se cogliamo questa occasione, di questo drammatico momento storico, questo... Che il nostro dopoguerra diventi veramente un dopoguerra di rinascita e di pianificazione della nostra vita, non solo sanitaria, ma anche economica, quindi di sviluppo, centrando, e credo che non siamo più in grado di sbagliare, gli obiettivi, allora probabilmente avremo una speranza. Senatore. La mia figlia, che ha sempre deciso di andare a lavorare all'estero, io ho sempre cercato di persuaderla. Magari, in qualche modo, proverò a essere meno papà protettivo, ma... Però siamo così, noi genitori siamo così, anche io sono così con mio figlio. E una cosa, senatore, ha parlato di amministrazioni locali, le vorrei chiedere questo, quanto è importante, perché abbiamo detto dello Stato, il decreto ristori, ma il sostegno di un ente locale, per un'impresa o per un lavoratore, quanto è importante? Può incidere? Fondamentale, non è importante. Qualunque tipo di attività che viene fatto sul territorio, sia sia pubblica, sia sia privata, passa attraverso le autorizzazioni o comunque l'accompagnamento delle pubbliche amministrazioni. Lo abbiamo visto con il drama del Ponte Morandi, per fortuna oggi, da qualche tempo, qua si parla di Ponte San Giordi, e questo mi rallega. Cioè, il modus operandi con cui lo Stato è stato in grado di reagire a questa grande emergenza, probabilmente non è coniugabile su qualunque tipo di opera, su qualunque tipo di argomento, ma è evidente che quel modo ha funzionato. Quindi gli enti locali, il commissario straordinario, il sindaco di Genova, attraverso gli strumenti che la politica gli ha dato, io fui relatore al Senato del provvedimento del decreto Genova, è evidente che l'ha messo nella condizione di fare il proprio lavoro. Oggi noi andiamo con conferenze dei servizi, autorizzazioni, ecco, il professore Carlo Maglio prima quando faceva riferimento è stato straordinario perché mi sono sentito toccato nel vivo proprio oggi pomeriggio sul fronte del fatto che l'autorizzazione al blu dovrebbe essere una cosa più semplice, non dovrebbe essere dimmi cosa devo fare per avere l'autorizzazione, ma te la do, perché digitalmente che accendo un motore verifico il tuo Stato e sono nella condizione di potertela dare. Bene, oggi mi hanno chiesto la carta d'entità e subito dopo mi hanno chiesto il codice fiscale con l'altra cosa. Quella tessera sanitaria. Quando lei l'ha citato io mi sono ritrovato perfettamente inserito nel contesto del dramma del nostro paese dal punto di vista della tecnologia, dell'innovazione tecnologica. E così vedo che il professor Carlo Maglio ha... è così. Io la ringrazio su questo senatore e la invito ovviamente a rimanere con noi perché... è così. Grazie a tutti.